Ipazia, la filosofa di Alessandria. Ipazia, in greco antico, Y, Ipatia, in latino, Ipatia, Alessandria d'Egitto. 355 Alessandria d'Egitto, marzo 415 è stata una matematica, astronoma e filosofa greca, vissuta nell'età tardoantica. È considerata una delle figure più importanti del suo tempo, e la sua uccisione, avvenuta per mano di una folla di fanatici cristiani, è stata un evento che ha segnato la fine dell'età classica. Biografia Ipazia nacque ad Alessandria d'Egitto, all'epoca una delle più importanti città del mondo antico. Era figlia del matematico e filosofo Teone, che era anche il direttore del Museo di Alessandria, un centro di apprendimento e ricerca fondato da Alessandro Magno. Ipazia ricevette un'educazione completa, studiando matematica, astronomia, filosofia e letteratura. Già in giovane età, Ipazia si distinse per le sue eccezionali doti intellettuali. Divenne presto una delle figure più importanti della vita intellettuale di Alessandria, e i suoi insegnanti erano molto apprezzati da studenti di tutto il mondo. Ipazia era anche una donna molto bella, e la sua fama di saggia e bella donna la rese una figura molto popolare. Attività scientifica Ipazia fu una figura di primo piano nel campo della matematica e dell'astronomia. Fu una delle prime persone a comprendere la teoria eliocentrica dell'universo. Proposta da Aristarco di Samo nel III secolo anno corrente Ipazia scrisse anche commenti su opere di importanti, matematici e astronomi greci, tra cui Euclide, Archimede e Ptolomeo. Ipazia fu anche un'importante studiosa di filosofia. Era una seguace della filosofia neoplatonica, e i suoi insegnamenti erano basati sui principi di questa scuola filosofica. Ipazia credeva che la filosofia potesse aiutare le persone a comprendere il mondo e il loro posto in esso. Morte. La morte di Ipazia fu un evento tragico che segnò la fine dell'età classica. Nel 415 dici, una folla di fanatici cristiani, guidati dal vescovo Cirillo di Alessandria, attaccò il carro di Ipazia e la trascinò per le strade della città. Ipazia fu poi uccisa e il suo corpo fu mutilato. La morte di Ipazia è stata interpretata come un simbolo della fine del paganesimo e dell'inizio dell'età cristiana. La sua figura è diventata un mito, e Ipazia è spesso ricordata come una martire della scienza e della libertà di pensiero. Eredità. L'eredità di Ipazia è ancora oggi viva. È considerata un'importante figura del pensiero scientifico e filosofico, e la sua morte è un monito contro l'intolleranza e la violenza. Ipazia è stata una donna straordinaria, che ha raggiunto grandi risultati in un'epoca in cui le donne non avevano le stesse opportunità degli uomini. La sua storia è un'ispirazione per tutti coloro che credono nella libertà di pensiero e nell'uguaglianza di genere. Interpretazioni. La figura di Ipazia è stata interpretata in modi diversi nel corso dei secoli. Alcuni storici la considerano una semplice vittima dell'intolleranza religiosa, mentre altri credono che fosse una figura più complessa, che rappresentava anche una minaccia per il potere politico e religioso dell'epoca. È certo che Ipazia era una donna molto intelligente e colta, che ha contribuito in modo significativo al progresso della scienza e della filosofia. La sua morte è un evento tragico che ha avuto un profondo impatto sulla storia del mondo.